Grazie 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 Buongiorno a tutti noi siamo l'orchestra da camera del secondo giudice vi abbiamo appena suonato l'adagio in sol minore di Tommaso Albinoni abbiamo Claudio Traverso Ilaria D'Angelo e Francesco Mera De Paoli Pianoporte Daniele Fiorillo e Lorenzo Andrea Foschi Violino Claudia Giabur e Gioroncello Valerio Adriano Vacchia Grazie 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 Grazie